ed eccoci ora con mister la rosa il san calogero innanzitutto un allenatore che ha un passato calcistico importante ma un san calogero che si è comportato benissimo ha perso ma con l'onore delle armi come spesso capita alle squadre che affrontano il monte paone certo noi abbiamo rispettato un'ottima partita noi abbiamo affrontato un'ottima squadra che il monte paone per niente prima in classifica però il risultato più più eco era il pareggio perché il secondo gol era danno l'arbitro lo aveva già annullato perché il regolamento dice che sulla respinta del palo o della traversa e fuori gioco infatti l'arbitro aveva già annullato aveva applicato il regolamento e dopo in secondo tempo ha segnato il gol quindi il risultato più giusto era il pareggio comunque avete disputato l'ottima partita avete segnato su palle inattive ma sostanzialmente l'organizzazione tattica era quella giusta perché avete messo in difficoltà il monte paone forse poi la forza del monte paone è stata la chiave di lettura di queste partite oggi il campo non dava le possibilità di giocare cioè se doveva fare questo gioco quando c'è ci sono questi terreni pieni di fango quindi si deve giocare così con i padroni inattivi con i padroni in avanti noi abbiamo disputato un'ottima partita credo che il pareggio è il risultato più giusto e comunque complimenti a questo San Caloggio che quando si gioca al calcio e non succedono cose extracalcistiche è una signora squadra la ringrazio del complimento però io domenica scorsa non c'era perché infatti io sono impiegato alle poste domenica aveva avuto un'infortuna non sono andata se c'era io credo alcune cose ci sono nel sistema extracalcistiche speriamo che non succederà mai nulla e io auguro al monte paone di vincere il campionato perché è un'ottima squadra ha un ottimo elemento il numero 4 io l'avevo già visionato nel giro dell'andata quando abbiamo perso in casa 4-1 comunque speriamo che vincino il campionato ed eccoci ora con mister pisano insomma un monte paone che ha combattuto nel fango per alla fine esce vincitore mister la rosa diceva che il secondo gol era da annullare però diciamo che il monte paone ha sottolineato la propria forza anche in questa occasione sì innanzitutto era sicuramente una partita difficile per via del terreno di gioco che era molto appesantito l'arbitro ha deciso comunque di giocare credo che siamo stati notevolmente svantaggiati da questo perché non si poteva assolutamente giocare la palla a terra quindi si è messa la gara su una condizione dove noi non siamo sicuramente bravissimi non è la nostra caratteristica principale però nonostante questo i ragazzi hanno creato tantissimo primo tempo credo che non dovesse finire una zero ma credo che ci dovessero essere più gol di scarto purtroppo siamo riusciti a segnare solo un gol e quindi nel secondo tempo è normale che si possa concedere qualcosa alla squadra avversaria e che ha pareggiato sul rigore quindi in seguito alle proteste poi sul gol nostro gol del 2 1 io solitamente non mi trovo a parlare degli arbitri come non ho protestato sul rigore loro non non mi ritrovo assolutamente a commentare mai le decisioni arbitrali né quando sono a favore eventualmente né quando sono a sfavore per quanto mi riguarda si deve giocare a calcio e cerchiamo di fare questo di insegnare anche soprattutto ai ragazzi questo e un'ultima battuta me lascia per non farlo giocare bisogna proprio tagliarli tutte e due le gambe oggi aveva il polso indolorante ma combattuto lo stesso si ha preso una botta sul polso diciamo che armando è un guerriero come ha dimostrato tutta la squadra oggi e dietro di lui tutti gli altri hanno risposto in modo positivissimo perché secondo me questa era una gara fondamentale per farci capire anche di che passeravamo fatti perché ripeto ci voleva un grande carattere a lottare su ogni pallone su questo su questo campo